Il momento della reclusione deve rappresentare il ponte tra la pena che bisogna scontare e la nuova vita. Per fare questo bisogna creare le condizioni. La reclusione non deve essere il buio totale, ma il momento per riflettere e guardare avanti attraverso il lavoro o lo studio. Questo accade da tempo nel carcere Sant'Angelo dei Lombardi, dove ieri sono state inaugurate nuove attività che saranno svolte dai detenuti. Il bistrugale 8 rappresenta la rivincita per Antonio, Domenico e Ciro, che quando torneranno a casa hanno intenzione di incamminarsi definitivamente lungo la strada della legalità, grazie al lavoro che stanno imparando in carcere. Questo sarà il mio futuro con i miei figli. È un momento di riflessione, ci ho pensato facendo questo corso di formazione. Mi sono imparato tante cose, perché ho pure i miei figli che fanno alberghiero. A me non è arrivata, perché già l'ho fatto fuori, già lo facevo, poi nell'ambito non mi sono trovato. Con gli amici sono trovato qui e adesso spero di riuscire e di continuare il lavoro. Per me è un'opportunità, per me e per i miei figli. C'è un figlio di 20 anni e quando esco me lo porto con me in questo campo di istruzione azzurro. Io già lavoravo fuori, è un altro mestiere, però questo qua mi piace a me. L'emozione e la soddisfazione della direttrice Marianna Andanti, che immagina altre iniziative. Io oggi sono particolarmente emozionata perché sono arrivati a Sant'Angelo Lombardi, sia il viceministro onorevole Francesco Paolo Sisto, che il nostro capo di partimento, il dottor Giovanni Russ, c'è anche una platea di autorità locali, anche di polizia, di carabinieri ed è importante la presenza di Sua Eccellenza. La comunità è sempre vicina, in particolare il Germoglio, una cooperativa che insiste sul territorio da anni e grazie alla quale in sinergia riusciamo a fare tantissime cose e si spera ne facciamo ancora altre.